Cari amici, buonasera e bentrovati. Oggi ci occuperemo di un argomento estremamente delicato e complesso. Vi parlerò di come i sentimenti possano essere utilizzati all'interno della setta dei testimoni di Geova per intrappolare le persone. Per fare questo però dobbiamo fare un passo indietro e dobbiamo fare una piccola digressione su alcuni concetti di psicologia sociale che saranno necessari per riuscire a capire tutto il discorso che arriverà dopo. Allora, partiamo con il concetto di gruppo sociale. I testimoni di Geova, per come sono organizzati e per le regole interne che li contraddistinguono, possiamo tranquillamente definirli un gruppo sociale. Un gruppo sociale ha tre caratteristiche secondo la psicologia sociale. Innanzitutto la prima caratteristica è un'interazione interna strutturata attraverso dei modelli stabiliti. Che cosa significa questo? Significa che all'interno del gruppo si interagisce secondo delle norme condivise e ben standardizzate. Se queste norme iniziano ad essere messe in discussione da uno o più membri del gruppo, il gruppo rischia di vacillare segnamente. La seconda regola di un gruppo sociale, o meglio la seconda caratteristica di un gruppo sociale, è il senso di appartenenza. Maggiore è il senso di appartenenza, maggiore sarà la coesione interna al gruppo. Per coesione interna, amici, che cosa si intende? Significa semplicemente l'unione dei membri all'interno del gruppo. La coesione interna è fondamentale per la sopravvivenza di un gruppo sociale. La terza caratteristica di un gruppo sociale è un'identità riconosciuta. Cosa significa? Significa che il singolo all'interno del gruppo si impegna per affermare l'identità collettiva del gruppo. Quindi significa che il singolo agisce insieme agli altri singoli, in modo tale da sentirsi egli stesso collettività, egli stesso gruppo, in questo senso. E questo come viene fatto? Attraverso comportamenti standardizzati, stereotipati, attraverso delle gestualità ben definite e reiterate, attraverso un determinato tipo di linguaggio, sempre quello, e anche attraverso la decisione su quale tipologia di vestiario utilizzare. Ora, come vedete non sono concetti difficili da comprendere per i non addetti ai lavori, però sono dei concetti basilari per capire che cosa accade all'interno della setta dei testimoni di Geova? E come dicevamo all'inizio, i sentimenti possano essere utilizzati per manipolare le persone. Dunque, abbiamo detto, siamo di fronte ad un gruppo sociale, perché se ci pensiamo, proviamo ad esaminarli. I testimoni di Geova obbediscono esattamente a tutte e tre le caratteristiche di cui vi ho parlato. Vale a dire, hanno un'interazione strutturata attraverso modelli stabiliti, cioè interagiscono secondo delle norme condivise? Sì, interagiscono attraverso delle norme condivise, perché loro rispettano tutti i determinati canoni imposti dalla Watchtower, gli otto famosi di Warwick. Questo che cosa fa? Questo favorisce la coesione interna al gruppo, il sentirsi appartenenti al gruppo. Hanno senso di appartenenza? E direi proprio di sì, amici. Hanno senso di appartenenza da vendere. Chi di voi li conosce? Chi di voi ne ha fatto parte? Chi di voi ne fa ancora parte? Saprà benissimo che quando parlano delle persone al di fuori, loro le identificano con il mondo. Quindi, come vedete, il senso di appartenenza è estremamente radicato nei testimoni di Geova. Loro si considerano una sorta di elite, chiamiamola così, privilegiata agli occhi di Dio, tant'è vero che sono convinti che nel momento in cui ci sarà Armageddon si salveranno solo loro. Come vedete, il senso di appartenenza nei testimoni di Geova è estremamente forte, tant'è vero che hanno anche la terza caratteristica di cui abbiamo parlato, cioè un'identità riconosciuta. L'identità del singolo è identità del gruppo. Usano lo stesso linguaggio? Ebbene sì, se ne avete fatto parte, se li conoscete, vi renderete conto che dicono tutti esattamente le stesse frasi. Tutti dicono le stesse cose perché sono quelle stesse cose che vengono ripetute all'infinito, tanto da penetrare nel cervello e da renderli convinti che quelle cose sono reali e appartengono solo a loro come gruppo elitario. Hanno un codice di vestiario? Ebbene sì, tutti voi potete constatarlo questo. Gonna per la donna, giacca e cravatta per l'uomo, taglio di capelli di un certo tipo per l'uomo, quindi hanno un linguaggio, degli atteggiamenti, dei comportamenti e anche esteriormente il loro vestiario, li contraddistingue come gruppo. Quindi possiamo dire, dopo questa brevissima analisi in cui ci viene in aiuto appunto un po' di psicologia sociale, che i testimoni di Geova sono un gruppo sociale come tale li possiamo identificare. Detto ciò, io mi voglio concentrare su una cosa, o meglio su una caratteristica dei gruppi sociali e in questo caso una loro caratteristica anche, la coesione interna. Vedete, la coesione interna, cioè l'unione interna al gruppo, serve per fare in modo che il gruppo non si disgreghi, per fare in modo che il gruppo non vada in crisi, perché se il gruppo entra in crisi si rischia che il gruppo salti, semplicemente. Come si fa a mantenere un elevato livello di coesione interna? Semplicissimo, signori. Si utilizzano gli stessi metodi che si utilizzano anche in alcune tipologie di mafie. Voi direte cosa c'entra? Ve lo spiego subito. Molte mafie si reggono a livello di coesione interna, quindi tradotto non si ammazzano tra di loro, solamente grazie a legami affettivi e di sangue. Molte mafie si reggono attraverso matrimoni organizzati tra i figli dei vari membri del clan di importanza radicale. Tutto ciò fa in modo che il legame affettivo faccia da impedimento alla distruzione del gruppo. Questo come si può tradurre nel mondo dei testimoni di Geova? Ora ve lo spiego. I legami affettivi all'interno dei testimoni di Geova devono essere stabiliti solo all'interno della setta. Questo cosa significa? Questo significa che se una persona testimone di Geova decide di frequentare una persona non testimone di Geova, e parlo di rapporto sentimentale ovviamente in questi casi, questa persona non avrà molta libertà, anzi non avrà per nulla la libertà di fare questo tipo di discorso nella sua vita. Perché? Dovete sapere che nei testimoni di Geova esiste una cosa che si chiama segnatura. Cosa è la segnatura? La segnatura è un provvedimento attraverso il quale quando una persona fa delle cose che vengono reputate sbagliate ma non ancora passibili di comitato giudiziario e quindi non ancora passibili di disassociazione, si può praticare appunto la segnatura. Diciamo che la segnatura è come nel calcio il cartellino giallo, è l'anticamera della disassociazione che sempre facendo un paragone calcistico equivale al cartellino rosso. Perché? Se questa persona decide di frequentare una persona che non è testimone di Geova, si può mettere in atto la segnatura. La segnatura consiste in un discorso che viene fatto durante un'adunanza nella sala del regno e in questo discorso, tranne in rari casi in cui si pronuncia il nome, ma quasi mai si pronuncia il nome della persona a cui è riferito, si metterà in guardia l'intera congregazione da certi tipi di comportamento. In questo caso parliamo appunto del frequentare una persona esterna ai testimoni di Geova. Quindi di conseguenza si metterà l'intera congregazione in guardia dai rischi del frequentare una persona esterna. in questo modo si farà comprendere che all'interno della congregazione c'è un fratello segnato. Cosa significa essere segnati? Significa una cosa semplicissima. Significa che si possono intrattenere con gli altri testimoni di Geova dei rapporti di tipo teocratico, quindi finalizzati allo studio delle varie pubblicazioni, al servizio di campo e a tutto ciò che riguarda la parte teocratica, ma non si potranno continuare ad avere con quella persona che è segnata dei rapporti a fini di svago, come dicono loro. Quindi se vuoi uscire con un segnato e andare a mangiarti una pizza non lo devi fare. Ora voi mi direte ma se loro non dicono il nome del segnato il più delle volte come si fa a capire chi è il segnato? In questo caso capire chi è il segnato non è difficile perché è la persona che ogni volta che verrà invitata a fini di svago a sua personale responsabilità dovrà dire di no. quindi alla fine lo si capirà. Ora detto ciò, quindi spiegata in termini abbastanza semplici per chi non la conosce che cos'è la segnatura, io vi voglio parlare più approfonditamente di quelli che sono i provvedimenti nel caso in cui si decida di frequentare una persona esterna ai testimoni di geova. A questo proposito ho a disposizione un breve stralcio del cosiddetto ks. Per chi non lo conosce il ks, sigla chiaramente acronimo dall'inglese, è il libro cosiddetto segreto degli anziani. Questo libro che si intitola pasce del gregge non è nient'altro che un manuale destinato solo ed esclusivamente agli anziani delle congregazioni che stabilisce le regole da seguire caso per caso per quanto riguarda la gestione di tutto ciò che riguarda la congregazione. Io a questo proposito vi voglio leggere degli stralci presi dal capitolo 12 paragrafi 77, 79 e 80. Leggo letteralmente. Se un cristiano battezzato frequenta un non testimone, gli anziani dovranno prima dargli consigli e cercare di aiutarlo. Se nonostante i ripetuti consigli la persona continua ad ignorare i principi biblici, il corpo degli anziani può decidere di pronunciare un discorso per mettere in guardia la congregazione. Aggiungo io la famosa segnatura di cui parlavamo poco fa. Se la persona frequenta un proclamatore non battezzato può non essere necessario pronunciare il discorso. Allora partiamo con ordine. Gli anziani dovranno prima dargli consigli e cercare di aiutarlo. Cosa significa letteralmente? I consigli degli anziani in questo caso consistono nel far capire alla persona che non è il caso che continui a frequentare la persona esterna. Semplicemente sono questi i consigli, non è che c'è altro signori. Quindi o stai dentro o stai fuori con la persona che ti piace. Il discorso è quello. C'è poco da consigliare. Ecco. Messo così sembra che chissà quali siano. In realtà sono questi. O dentro o fuori. Se nonostante i ripetuti consigli la persona continua a ignorare i principi biblici il corpo degli anziani può decidere di pronunciare un discorso per mettere in guardia la congregazione. Qui nel caso in cui tu che frequenti la persona esterna dici no io voglio continuare a frequentarla quella persona mi piace eccetera eccetera a quel punto avviene la segnatura il famoso discorso di cui sopra. C'è un ma e qui già iniziamo a capire come stanno le cose. Se la persona continuo a leggere sempre dal KS frequenta un proclamatore non battezzato può non essere necessario pronunciare il discorso. Chi è il proclamatore non battezzato? Il proclamatore non battezzato è la persona che ha studiato con i testimoni di Geova e ha iniziato ad andare a proclamare quindi a predicare in servizio di casa in casa ma non ha ancora il battesimo. Quindi se la persona frequenta un proclamatore non battezzato può non essere necessario pronunciare il discorso perché? Semplice perché la persona che sta frequentando è già con un piede in mezzo all'interno della congregazione manca solo il battesimo quindi in realtà è quasi un testimone di Geova. Perciò la coesione interna in questo caso non viene a mancare. Capitolo 77. A volte può essere necessario segnare qualcuno. Potrebbe trattarsi di qualcuno che frequenta un non testimone. Questo qui ci dà la conferma di ciò che abbiamo appena letto. Mantenimento della coesione interna a tutti i costi utilizzando i sentimenti quindi utilizzando i rapporti umani. Capitolo 80 ultimo straccio del KS. Se la persona fa dei cambiamenti gli anziani potranno decidere individualmente di socializzare con lei. Ciò indicherà alla congregazione che non considerano più la persona segnata. Se la persona fa dei cambiamenti. Signori quali sono secondo voi i cambiamenti in questo caso? Semplice che la persona smetta di frequentare la persona esterna. A quel punto gli anziani potranno socializzare singolarmente con questa persona come a farle capire che è stata riabilitata agli occhi della congregazione e la congregazione stessa potrà tornare ad avere con questa persona non solo dei rapporti di tipo teocratico ma anche dei rapporti di tipo umano, di svago. Ecco, mettiamola così. Ora, io che cosa vi voglio dimostrare con questi stralci di KS e con tutto questo discorso sulla coesione interna? Questa setta si regge attraverso la manipolazione dei rapporti umani. E sapete perché ve lo dico? Io ve lo dico con dovizia di causa, io ve lo dico veramente con la consapevolezza di tutte quelle persone che sono sposate all'interno dei testimoni di Geova, hanno figli testimoni di Geova, nuore testimoni di Geova, nipoti, fratelli, tutti i testimoni di Geova. Li conosco personalmente signori, sono in trappola, ci sono persone che vogliono uscire da questa setta ma non possono farlo perché perderebbero la loro intera famiglia. Ci sono persone che sono cadute in depressione a causa di questi motivi, ci sono persone che hanno tentato il suicidio a causa di questa trappola. quindi questo voglio far comprendere. Questa setta si basa oltre che sulla manipolazione del singolo individuo anche sulla manipolazione dei sentimenti perché i sentimenti vengono utilizzati come un vero e proprio ricatto morale sul singolo. Se tu esci da lì perdi tua moglie, ti salta il matrimonio, se tu esci da lì non ti faranno vedere i tuoi nipoti se sei già nonno. Se tu esci da lì tuo fratello, tua sorella non ti guarderanno più in faccia. È libertà questa? Tutte le volte che loro dicono la solita frase si è liberi di entrare ed uscire, secondo voi è libertà questa sapendo che uscendo di lì si perde tutta la propria famiglia e mi limito a parlare di famiglia, non voglio parlare anche degli amici perché uscendo da lì si perdono anche tutti gli amici, ma io voglio limitarmi a parlare dei sentimenti quelli più stretti che si hanno nella vita, quelli con la propria famiglia. È questo il modo in cui i sentimenti dei singoli vengono strumentalizzati ed utilizzati a proprio uso e consumo per mantenere una coesione interna e quindi per mantenere in piedi la setta. Io con questo video spero veramente di essere riuscita a dare un po' di luce su quello che è questo meccanismo così becero, perché vedete la manipolazione mentale del singolo già di suo è un qualcosa di abominevole, ma quando a quella si vanno a sommare anche le manipolazioni sui sentimenti che sono un qualcosa così profondo nell'essere umano, veramente diventa un assalto alla dignità umana senza limiti né confini. Io ho detto questo, non mi voglio dilungare oltre, non vi voglio annoiare, vi ringrazio per tutte le visualizzazioni a questi video perché mi fanno capire che forse qualcosa di buono sto riuscendo a fare, vi ringrazio per tutti i messaggi che continuate a mandarmi, mi fa estremamente piacere riuscire a fare qualcosa di positivo per chi ne ha bisogno, a voi che siete dentro e vi sentite in trappola vi dico coraggio, tanto coraggio perché se ne può uscire, bisogna cercare la strada per farlo, si può riuscire a fare qualcosa per quanto possa sembrare complicato ma qualcosa si riesce a fare. Nei prossimi video cercherò di parlare approfonditamente anche di tutto questo discorso che c'è dietro, di tutta la sofferenza dei singoli individui, perché vedete qui non si tratta di dire vabbè ok hanno scelto loro di entrare, problema loro, ho sentito anche questo, è un discorso che umanamente quando non si conosce questa setta può anche essere accettabile, ma se si conosce tutto ciò che c'è dietro questo è un discorso che perde significato perché in realtà ci si rende conto di quanto questa setta renda le persone oltre che vittime delle vere e proprie, dei veri e propri individui intrappolati in una gabbia e quando si sta in una gabbia la gabbia può essere dorata quanto volete e questa neanche lo è, ma sempre gabbia rimane. Io con questo vi saluto, vi ringrazio ancora, ribadisco spero di riuscire a fare anche se poco qualcosa di importante per chi ne ha bisogno e per chi sta soffrendo a causa di questa setta e delle sue malefatte. Detto ciò vi do una buona serata nella pace del Signore.